Sì ragazzi ho visto che è uscito fetch su Amazon, sì ragazzi l'ho già comprato, no ragazzi non so se esce in italiano, se esce in italiano non so quando esce, ho visto che c'è Mangle su FNAF AR, no! Non posso fare un altro gameplay su FNAF AR soltanto perché sono usciti Mangle, Toy Bonnie e chissà quanti altri personaggi che adesso non mi ricordo Sì ragazzi ho visto che è uscita anche la copertina del dibor di FNAF, quello nuovo, questo qua strana, so anche dei teaser su Scott Games, state tranquilli ragazzi, so tutto Innanzitutto se c'è una cosa bella di me, di me medesimo, del mio canale è che le news di FNAF quelle lì le so subito, anche se non vi faccio il video Perché ovvio capirete non è necessario un video per parlare di queste immagini, cioè che frega un cazzo Ma sai il fatto che voi quando vedete che c'è una news di FNAF non dovete pensare, ah cazzo adesso mi devo pure scomodare ad andare sotto un video di LOL TV e commentargli che è uscita sta roba nuova No, dovete pensare, cazzo una nuova news di FNAF allora di certo LOL TV lo sa già, perché è così ragazzi, lo so già Cioè il bello del servizio che offre è questo, stay tranquill E comunque capirete ragazzi, cioè non posso portare solo news su FNAF, teorie su FNAF ragazzi, cioè già le porto tanto e ne porto tantissime E in ogni caso porto FNAF un casino anche negli altri video che faccio, cioè molte volte mentre faccio un video e non so che dire mi metto un po' a parlare delle nuove news di FNAF Cioè non è necessario che faccia un video diretto solo per le news di FNAF, insomma capirete Cioè questi poveri cristiani che guardano Undertale hanno dovuto aspettare due mesi tra l'episodio 4 e l'episodio 5, vi rendete conto? Voi tra una teoria di FNAF e l'altra non dovete aspettare un cazzo, perciò, cioè siete pure fortunati E comunque prima di iniziare il video, canale dei sassi ragazzi, stiamo per iniziare a pubblicare video e fare soprattutto live, tantissime live, tantissime live tra l'altro con gli iscritti ragazzi Addirittura una delle nostre prime live, se non addirittura la prima live mi sa che faremo Sarà un chi vuole essere milionario fatto con gli iscritti, un enorme quiz con tutte domande sui sassi, su roba dei sassi, su di me, sui tizi belli, capito? E il vincitore che riuscirà a vincere ragazzi, vincerà Discord Nitro che sarebbe Discord Premium con tutte le cose belle Potete usare le emoji animate su Discord, naturalmente sul server dei sassi e su tutti gli altri server E comunque ragazzi, server Discord dei sassi, link in descrizione, unitevi tutti, è una community bellissima Abbiamo inglobato la gente bella, adesso siamo tutti belli felici e si balla il ciao 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 Perciò iscrivetevi inoltre, per chi fosse interessato io porto anche FNAF, porterò anche FNAF su questo canale E soprattutto si tratterà di contenuti inediti ragazzi, perciò iscrivetevi in tanti, mi raccomando Trovate il link sia in descrizione, sia nella sezione dei canali, nel mio canale Il canale più importante di tutti, Sassi Crew Series ragazzi, il canale dove c'è Sassi's Bizarre Adventure In futuro ci saranno anche altre serie, addirittura potrei pensare di fare una serie su FNAF in futuro, chi lo sa E in ogni caso, anche riguardo Sassi's Bizarre Adventure, indovinate un po' chi è il villain di Sassi's Bizarre Adventure Sì, è proprio lui, un personaggio di FNAF Inoltre il quarto episodio è uscito sei giorni fa, è bello fresco ragazzi ed è epico Andatelo a vedere, andate a vedere tutta la serie se non l'avete vista Inoltre per chi ha i soldi ragazzi esiste l'Old TV Shop, l'ho creato da poco I prodotti sono un pochino messi a cazzo, però ragazzi, hey, sono bellini, andateli a prendere Magari mi sono lasciato un po' prendere la mano con i prodotti di Sassi's Bia perché sono abbastanza Però insomma adesso aggiungerò anche qualche prodotto in più di FNAF Ma ragazzi cazzo, ci sono i calzini di Ciruzzo, guardate che belli C'è la tazzina col disegnino di Arredite, che bellino Inoltre sì, questo è un poster di S.S.B.A. e questo è un personaggio che non è ancora comparso Perché ragazzi, no, non è lo stesso che avete visto prima È un altro personaggio ancora, che non è un personaggio in realtà, è uno stand Ma comunque, avete capito, tanta roba, ok? Poi ho messo anche sto nuovo design sia come poster sia come felpa Che è bellissimo, ci siamo io e Tommy Ciuffo e i nostri due stand Ok, figo, fighissimo Lo so ragazzi che vedete che i prezzi magari sono tipo più dei... Sono un pochino alti, sono un po' più alti del normale Sono un pochino dei prezzi da fiera, non esattamente dei prezzi da sito online Però ragazzi, capitemi, sono letteralmente i prezzi minori che ho potuto mettere Sono il minimo Perché il sito mi impone di mettere un certo tot di soldi Perché alla fine di questi 13 euro, tipo 13 vanno al sito Perché il sito alla fine stampa le magliette, le produce, perciò i soldi vanno al sito E poi, boh, c'è tipo 90 centesimi, un euro massimo che arriva a me Poi tra l'altro è un euro se comprate questa maglietta Perché se comprate tipo questo poster che c'è un disegno di S.B.A. Allora lì vanno tipo, che ne so, 60-70 centesimi a S.B.A. A me ne arrivano 30 Cioè, capite, non guadagno un cazzo ragazzi, non lo faccio per i soldi, lo sapete benissimo Non monetizzo nemmeno il canale, porca puttana Perché non monetizzo? Devo attivare sta cazzo di monetizzazione Dopo quattro fottuti minuti che ho registrato di opening ragazzi Posso finalmente dire E poi guardi qui sono in storia ragazzi Oggi siamo su un video di FNAF ragazzi Riguardo la timeline di Five Nights at Freddy's Che cosa incredibile ragazzi, è incredibile Siamo proprio qua sul mio video della mia vecchia timeline 2018 Vecchia timeline Per vedere appunto dove ci eravamo lasciati l'ultima volta Perché in questo video imposteremo quella che sarà poi la nuova invece timeline Quella che andremo a fare forse a fine anno, forse all'inizio dell'anno prossimo, non lo so Perché nonostante io l'abbia ripetuto centinaia di volte Molti di voi continuano a chiedermi Ma Henry, quando è che arriva la nuova Ultimate Timeline? Io ragazzi l'ho ripetuto centocinquanta mila milioni di volte E lo ripeterò anche oggi Sto aspettando che escano i nuovi libri Per capire se sono effettivamente roba canonica oppure no Perché io ragazzi ho fatto questo video dove dico come Into the Pit potrebbe essere canonico Ma non lo so ne anch'io se è canonico Ho soltanto provato a porre il libro nella storia Poi non lo so io eh Non prendete quello che dico come oro colato insomma E comunque appunto anche dai prossimi libri Per esempio da Fetch che è appena uscito Si vedrà appunto se si tratta di storie effettivamente canoniche Magari non canoniche o magari come i vecchi libri Che aiutano soltanto a risolvere la storia E soprattutto Soprattutto Più di tutti Sto aspettando che arrivi FNAF 2020 Perché tecnicamente FNAF 2020 sarà il gioco Che spiegherà tutte le nuove domande Che si sono aperte con FNAF VR e FNAF AR Quindi tutta la storia di Vinny Questo reluctant follower Questa ragazza no Che a quanto pare è una seguace di glitch trap Bisogna capire se glitch trap Glitch trap quale collegamento ha con William Afton Teoricamente è William Afton Però non sappiamo Tipo è proprio lui È la sua anima È un codice che lo rappresenta È lui che ha creato una specie di entità Che agisce come lui Non lo sappiamo ragazzi questa cosa Ci sono varie teorie E io ho provato a esporne un paio Non prendete tutto quello che dico come oro colato Addirittura c'è chi dice che potrebbe essere in tutti gli FNAF Ragazzi E io ho notato che potrebbe essere in tutti gli FNAF Ragazzi non lo sappiamo Dobbiamo ancora capire se i giochi che giochiamo noi di FNAF Sono gli eventi reali O se sono i giochi del game developer Che tra l'altro abbiamo scoperto Non è più Scott Cazzo Cioè è tutto un casino ma come Cioè è FNAF Che cazzo ti aspetti È FNAF È tutto un casino per forza Ad ogni modo ho visto ragazzi anche che molti di voi E dico molti 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 di voi Continuano a seguire la mia vecchia timeline Nonostante io abbia specificato che è una vecchia timeline 2018 ragazzi È di due anni fa Siamo nel 2020 Adesso direi che un po' di cose sono cambiate Questa timeline si ferma a UCN Dopo la UCN sono usciti anche altri giochi di FNAF Non ci sono in questa timeline Perché continuate a basarvi su questa E la prendete come oro colato Quando vi ho detto Che è una timeline vecchia È di due anni fa Porca potana 5 settembre 2018 Porca potana Comunque parliamo della timeline In questo video discuteremo Quelli che sono gli errori più grossi Che ci sono in questa mia vecchia timeline Naturalmente si può trattare di errori Che posso aver fatto nel momento in cui Questi errori erano già degli errori Sia di errori che si sono creati col tempo Perché voi sapete che la storia di FNAF Non è mai uguale La storia di FNAF si evolve col tempo E molti dettagli cambiano man mano che si va avanti con la storia stessa Per esempio la faccia del vengeful spirit Molti dicevano che fosse tipo una bambina O un bambino strano Modellato in modo strano Scott ci ha confermato Che in realtà è soltanto una foto di suo figlio Però tipo è con i filtri brutti Tipo Capito? Pur il fatto che addirittura adesso Si comincia a pensare che magari William potrebbe non essere il padre di Elisabeth Potrebbe essere Henry O che com'è la casa che vediamo in FNAF 4 Potrebbe essere la casa di Henry Non di William Cioè capisci capisci Tante nuove svolte della storia Perciò direi che non possiamo più Semplicemente basarci soltanto Su una timeline fatta due anni fa Dobbiamo un pochino aggiustarla E visto che la nuova Ultimate Timeline Ci metterà un pochino ad uscire E quando sarà fatta Sarà fatta in un modo tra virgolette Rivoluzionario almeno per me Direi che è il momento di aggiustare un po' di cose Partiamo quindi dal principio 1973 Henry Da dove l'hai tirata fuori la data 1973? Il 1973 ragazzi L'ha tirato fuori come data indicativa ragazzi E' fatto tra l'altro Una specie di mini calcolo Considerando che di solito Noi prendiamo 30 anni di distanza Tra FNAF 1 e FNAF 3 No? Infatti 1993-2023 Sono 30 anni di differenza Questo ci viene detto Nella stessa descrizione di FNAF 3 Sappiamo che ci sono 30 anni di differenza Ma allora Come ho trovato la data 1973? Senza nessun calcolo in realtà Ho semplicemente preso una data a caso 10 anni indietro alla data originale Che sarebbe il 1983 Che noi sappiamo essere la data Invece dove si svolgono gli eventi di FNAF 4 La verità è che questa data E' sbagliata naturalmente ragazzi Ma questo pensavo di averlo anche già detto in sto video Se non l'ho detto forse me ne sono dimenticato Comunque voglio specificarlo Questa data è una data che ho preso indicativamente Non è che inizia tutto effettivamente nel 73 Magari prima si poteva dire Un pochino In modo un pochino più Come dire Più esatto Perché uno dice Non ci sono troppe informazioni Perciò dice Boh prendiamo una data indietro Poteva essere il 73 A quanto pare non è così Considerando che in FNAF VR C'è la token La moneta Dove c'è scritto Freddy Fazbear Entertainment Come cazzo si chiama Since 1983 Perciò noi sappiamo che il branding Di almeno Freddy Fazbear's Pizza Della Fazbear Entertainment in sé E' nato nel 1983 Il Circus Baby Pizza World Noi sappiamo che è una delle locazioni sorelle Perciò non sappiamo esattamente Se si tratta di qualcosa Che sia proprio Come dire Esattamente dentro la Fazbear Entertainment Magari era qualcosa di più a sé stante Non si sa Sta di fatto che sì Probabilmente anche il Circus Baby Pizza World Potrebbe aver aperto nel 1983 Ma non detto Non lo sappiamo esattamente Sappiamo solo Che questi primi eventi qui Ovvero gli eventi della morte della bambina E gli eventi Di quando il Circus Baby Pizza World Era effettivamente un ristorante Avvengono di certo Prima di FNAF 4 Questo è sicuro Ma qui ritroviamo un errore clamoroso Che ho fatto in questa timeline O almeno Potrebbe essere un errore Da un punto di vista Ma potrebbe non esserlo da un altro Ovvero il fatto che Il Circus Baby Pizza World Sia stato riaperto Dopo FNAF 1 ragazzi No O almeno adesso sono più convinto Che non sia così A mio parere è molto più probabile Che sia stato aperto Come avevo detto nella timeline Che feci prima di questa Quindi in realtà Avevo avuto ragione Tipo Tre anni prima Sister Location Non si trova qui Ma si trova qui in mezzo Tra il 1983 E il 1987 In particolare Tra FNAF 4 e FNAF 2 Questo perché? Perché né Survival Logbook Che teoricamente Dovrebbe essere canonico Ma anche lì ci sono Alcune visioni diverse In parte canonico In parte non canonico Insomma non si capisce Teoricamente Nel suo live logbook Noi vediamo che Mike Aveva già visto La Sister Location Ai tempi di FNAF 1 Noi sappiamo che Mike È quello che noi Impersoniamo a lavorare In Sister Location E se vediamo che lui Ha già fatto cose Riguardante la Sister Location In un diario In un libro Che risale In un logbook appunto Che risale A FNAF 1 Allora noi sappiamo Che questa cosa Di certo succede Prima di FNAF 1 Questo è sicuro Poi sappiamo di certo Che Mike Si è fatto licenziare Almeno da un'altra location Prima di FNAF 1 Perché sappiamo che anche FNAF 2 Entra sotto falso nome Quindi sappiamo Che ci dovrebbe essere Un'altra location Prima di FNAF 2 Nella quale ha lavorato Nella quale si era fatto licenziare E ci rimane solo Per l'appunto Il Circus Babies Award Perciò Ecco che lo spostiamo Appunto dietro FNAF 2 Inoltre non ci è mai stato detto Niente riguardo La pizzeria che non conosciamo Il vero primo Freddy Fazbear's Pizza Perciò non sappiamo Se ha lavorato lì E per andare su sicuro Diciamo che non ha mai Lavorato lì L'unica location che rimane Appunto è la Sister Location E quindi Nella sua riapertura Quando è stata adibita Feste private E quindi durante gli eventi Che noi viviamo Nel gioco Sister Location Allora Ecco che possiamo dire Quegli eventi Si trovano tra FNAF 4 e FNAF 2 Altra cosa In questa timeline Non avevo incluso appunto La pizzeria che non conosciamo O almeno L'avevo inclusa Ma soltanto Come show televisivo Freddy Bear and Friends Avevo detto che Il Freddy Bear and Friends Sarebbe dovuto essere Una specie di Nuova espansione Per il Freddy Bear Family Diner In arrivo In realtà No Il Freddy Bear and Friends Non è altro che Uno show È sempre lo show televisivo Nato appunto Dall'unione Delle due location Che coesistevano Allo stesso periodo di tempo Nello stesso 1983 Ragazzi Quindi in questo periodo di tempo Erano aperti Sia il Freddy Bear Family Diner Sia Il primissimo Freddy Fazbear's Pizza Dove troviamo Gli old animatronico Unwithered Come cazzo li volete chiamare voi Le due location Erano aperte contemporaneamente Ed è per questo Che avevamo già I gadget Dei personaggi di FNAF Ai tempi di Freddy Bear and Friends Ed è per questo Che appunto C'era lo show Freddy Bear and Friends Una cosa certa È che magari quella location È stata aperta Un pochino dopo Il Freddy Bear Family Diner Noi sappiamo che Il Freddy Bear Family Diner È comunque La primissima location Anche riguardo a questi eventi Nel Circus Baby Pizza World È probabile che le tre location Fossero tutte Coesistenti Nello stesso periodo di tempo Quindi Freddy Bear Family Diner Circus Baby Pizza World E Freddy Fazbear's Pizza Il primissimo Freddy Fazbear's Pizza Tutti insieme Nello stesso periodo di tempo Il primo ad aprire È il Freddy Bear Family Diner Poi aprono anche Le altre due sister location Quindi il Circus Baby Pizza World E il Freddy Fazbear's Pizza Semplicemente Questo incidente Avviene prima di questo incidente Nel Freddy Fazbear's Pizza Semplicemente Gli animatronic Vengono ripresi Perché ci sono poi Gli omicidi Quindi l'ordine degli incidenti Ecco Gli ordini degli incidenti Se non altro Li abbiamo messi bene Abbiamo prima Elizabeth Poi il Crying Child E poi L'omicidio dei bambini Che sono 4, 5, 6 Che cazzo ne so Anche il numero di bambini Non si capisce più Ad ogni modo L'ordine degli incidenti Sicuro è questo E appunto Avviamo 3 incidenti Per 3 locali diversi Circus Baby Pizza World Freddy Fazbear's Family Diner E il primo Freddy Fazbear's Pizza Anche in FNAF 2 Ci viene menzionato Questo primo Freddy Fazbear's Pizza Perché ci vengono menzionati Due precedenti locali In FNAF 2 Un primo locale Che era stato lasciato a marcire E un secondo locale Che era proprio Il Freddy Fazbear's Family Diner Il Freddy Fazbear's Family Diner Sappiamo qual è L'altro locale Sappiamo che semplicemente Che era un Freddy Fazbear's Pizza E' su questa prova Che molti ancora provano a dire Che FNAF 1 Venga prima di FNAF 2 La verità è che Sappiamo già da tempo In memore Che FNAF 1 Viene dopo FNAF 2 Grazie a questa cosa qui ragazzi Voi vedete che In FNAF 2 Ci viene dato Un assegno Che recita Data 1987 Quindi primo Sappiamo che FNAF 2 È esattamente nell'87 Secondo In FNAF 1 Ci viene parlato Del morso dell'87 Come un evento passato Terzo In FNAF 2 Non viene mai menzionato Quindi doveva ancora succedere E' successo probabilmente Dicono alcune teorie Attorno alla sesta notte O dopo la sesta notte O prima Insomma Nella giornata Della sesta notte Insomma Infatti guarda caso Dopo la sesta notte Cambiamo la guardia notturna Cambia la guardia notturna Non è più Jeremy Ma diventa Fritz Che noi sappiamo Tecnicamente Essere Michael sotto copertura Anche lì le cose Sono un pochino da mettere a posto Ma ne parleremo per bene Nell'Ultimate Timeline Quindi FNAF 1 Sappiamo bene Viene dopo FNAF 2 E sappiamo però Ci doveva essere Un altro Freddy Fazbear's Pizza Prima di FNAF 2 Quel Freddy Fazbear's Pizza Veniva menzionato Appunto è quello lì La famosa pizzeria Che non conosciamo Che già esisteva Già un sacco di gente Ne aveva già parlato Ancora prima Che venisse confermato Che FNAF 2 Fosse un prequel E non un sequel Di FNAF 1 Ah una cosa importante ragazzi Riguardo all'omicidio di Elizabeth Io in questo video Dico che era premeditato L'omicidio E poi invece c'è chi dice No ma Negli audio che vengono registrati Ci viene detto Che è stato un incidente Perciò in realtà È stato un incidente Non è stato premeditato L'omicidio La verità È che tutte e due le frasi Sono sia giuste Sia sbagliate La verità è che William aveva Costruito Baby Per uccidere dei bambini Ma Semplicemente Non avrebbe voluto Uccidere proprio Elizabeth Infatti Baby Aveva sempre La chella dentro lo stomaco E aveva il sistema Per contare Quanti bambini Fossero nella stanza Proprio perché Nel momento in cui Sarebbe rimasto un solo bambino Allora avrebbe dovuto fare La cosa che poi ha fatto Con Elizabeth Ma William Afton Non voleva Che la vittima fosse Elizabeth Perciò Dal punto di vista Del fatto che sia stato un incidente Il fatto che ci sia andata Elizabeth Un incidente Ma Dal punto di vista del fatto che Circus Baby fosse programmata Per uccidere i bambini No Non è stato un incidente William Afton voleva Effettivamente uccidere un bambino Attraverso Circus Baby E Probabilmente attraverso Anche gli altri Funtime Animatronics Considerando che Come vediamo Dai blueprint I blueprint sono abbastanza grandi Per contenere un corpo umano Inoltre Come ci viene fatto vedere Anche nei nuovi libri Tecnicamente Lo stesso Funtime Freddy Aveva nel suo stomaco Dei meccanismi simili A quelli di Circus Baby Comunque per uccidere Bambini Eccetera eccetera Un'altra cosa riguarda ragazzi Questo minigioco Il minigioco che viene chiamato Nei file di gioco Later that night Più tardi Quella notte Noi sappiamo con certezza Che questo minigioco Avviene dopo L'uccisione di Charlie Da parte di William In FNAF 2 Per l'appunto Questo è sicuro Non sappiamo ancora però Esattamente cosa rappresenta Questo minigioco Io in questa timeline Avevo provato a dire L'uomo arancione era William L'uomo grigio era Michael E dentro la stanza segreta Ci sarebbe dovuto essere Henry E' una cosa che ancora un po' Mi convince Devo dirvi la verità Ancora un po' Un po' mi convince Ma voglio più che altro Ricordarvi che è una mia deduzione Questa cosa qui Non è esattamente confermata In particolare vi dico Quando farò la nuova Ultimate Timeline Metterò una specie Di piccola cornicetta Attorno al video Che sarà di tre colori diversi Verde, gialla e rossa Verde quando dirò cose Che sono già state confermate Gialla quando dirò cose Che sono teorie Diciamo al lavoro Che sono teorie magari Di cui esiscono soltanto Tipo due o tre versioni diverse Ma comunque per la maggior parte Sono confermate Anche se non tutte E rossa quando invece faccio Soltanto delle mie personali deduzioni Perciò è una cosa che dovete Proprio prendere con le pinze Non è confermata E potete teorizzarci Sopra quanto volete Ecco Riguardo a Henry Henry è una deduzione Perciò diciamo che avrebbe La cornicetta rossa Poi il fatto che invece Questo minigioco avvenga Dopo la notte Dell'amici di Charlie Direi che ci si può mettere Una cornicetta Magari non verde Perché non è stata Proprio confermata Al 100% Ma al 99% È confermato Perciò direi Almeno una cornicetta gialla Magari potrei aggiungere La cornicetta blu Per le cose che sono state Confermate proprio Dallo stesso Scott Verde per le cose Che sono confermate Perché ormai si sanno Gialle per le cose Che non sono esattamente Confermate Ci sono ancora delle teorie Però insomma Per la maggior parte C'è un'idea generale fissa E rosse invece Per le cose che appunto Sono solo deduzione Sì potrei fare qualcosa Legge Cazzo mi sono toccato le cuffie Vabbè Ho preso con la mano Nelle cuffie Mi sono fatto male Vabbè Poi riguardo il fatto Che in questo minigioco Questo qua fosse Michael E non il Purple Guy Ho i miei dubbi Non lo so Bisognerebbe vedere Anche questa cosa Prendetela con le pinze Era soltanto una deduzione Riguardo al fatto Che il Purple Guy Si sia ficcato in Springtrap Perché sapeva Che ci si sarebbe reincarnato Continua ad essere Abbastanza sicuro Di sta cosa Non credo di essermi sbagliato Cioè ok Che ci sta la paura Ok che ci sta il fatto Che volesse effettivamente Difendersi dai fantasmi Ma appunto L'unico modo per difenderti Da un fantasma È essere un fantasma Perché a quel punto Il fantasma non può prenderti Però insomma Avete capito il concetto Qui in mezzo Bisogna ancora capire Se ci sono i nuovi libri O forse no Bisogna vedere Se sono canonici o no Poi per gli altri eventi In realtà direi Che la maggior parte Delle cose Sono più o meno esatte L'unica cosa Magari che potrei farvi notare È che in questo video Io confermo il fatto Che Golden Freddy E il Vengeful Spirit Siano la stessa persona E che si tratti sempre Del Crying Child Di FNAF 4 Questa cosa Adesso naturalmente Viene riparlata C'è chi dice che è Cassidy C'è chi dice che è il Crying Child C'è chi dice che addirittura È un'altra vittima Che non conosciamo Una cosa che posso dirvi È che di certo Il Vengeful Spirit È il Crying Child Perché sappiamo di certo Come viene detto Nello stesso gioco Che il Vengeful Spirit È un maschio E l'unico maschietto Che avrebbe potuto avere Abbastanza motivi E abbastanza metodi Per riuscire ad arrivare Fino a questo punto Come Vengeful Spirit Era proprio il Crying Child Ma ne parleremo bene Quando faremo L'Ultimate Timeline Poi riguardo Golden Freddy Potrebbe anche essere Cassidy Potrebbe anche essere Un'altra vittima Io non lo so Ma la verità è che non lo sa nessuno Perciò state attenti Non confermate mai cose Che non sono effettivamente confermate È un errore che ho fatto Anch'io in passato Proprio anche in questa Timeline La prossima Timeline Appunto aggiungerò Questa roba delle cornicette In modo che tutti sappiano Com'è che le cose sono Se sono confermate o no Poi sulla nuova questione Riguardante Vinny E appunto Reluctant Il fatto che sia Questa follower Di Glitchtrap Che cazzo ne so E possibili cose Che potremo vedere In FNAF 2020 Si vedrà Anche il teaser Che c'era in FNAF VR Presente no? Quello del centro commerciale Ecco quello lì Tecnicamente dovrebbe essere Un teaser proprio per FNAF 2020 Perché tecnicamente FNAF 2020 Viene fatto da Steelwall Studios Ma ad ogni modo Ne parleremo a tempo di vita Per oggi Direi che abbiamo finito Ciao ragazzi Io spero che vi sia Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao